Vivere felici è possibile? Io penso di sì, a patto che riusciamo ad accettare alcune cose che fanno parte del nostro mondo. La prima cosa che dobbiamo imparare, credo, ad accettare per vivere felicemente è quella che nessun altro, niente e nessuno, ci può dare la felicità. Sicuramente non è un'altra persona, sicuramente non è l'utopia materialistica, avere più cose, accumulare delle cose, anzi paradossalmente potrebbe anche darci l'inselicità perché di fatto potrebbe stimolarci la paura di perdere ciò che abbiamo. E mi collego però proprio al fatto della paura di perdere qualche cosa. Noi dobbiamo tenere presente che viviamo in un mondo impermanente. Ogni attimo della nostra vita è diverso dall'attimo precedente. Ogni attimo della nostra vita siamo una persona diversa, siamo invecchiati, siamo cambiati. Tutto si trasforma, tutto cambia. E nel momento in cui noi invece siamo focalizzati su un'immagine mentale che resta costante, siamo focalizzati sull'immagine mentale, ad esempio, che abbiamo un certo lavoro, che abbiamo una certa relazione, che siamo fatti in un certo modo. Se crediamo a quest'illusione, allora necessariamente saremo infelici, perché avremo una realtà che sarà sempre diversa da quest'illusione. Quindi comprendere profondamente che tutto cambia, tutto si trasforma, ciò che oggi è in un modo sicuramente non è più in un altro domani, sarà sicuramente in un altro modo domani. Se riusciamo a comprendere questo, allora possiamo vivere felici, apprezzando l'incontro tra il passato e il futuro, cioè il presente. E se riusciamo a creare un'armonia interiore, a renderci conto che anche noi siamo in costante trasformazione, che ci portiamo dietro un corpo che è comunque soltanto un abito che indossiamo e che non vale la pena quando quest'abito non è più utilizzabile soffrire, ma dobbiamo prepararci a cambiare abito, a cambiare un nuovo vestito, a usare un nuovo vestito, a vivere nuove esperienze, a vivere un'altra vita. E tutto questo possiamo farlo se iniziamo una ricerca, che non è tanto la ricerca del piacere esterno, quanto la ricerca del piacere interiore, la ricerca dell'equilibrio interiore, andare a riscoprire, utilizzare l'esterno per comprendere meglio noi stessi, cioè fare un lavoro dall'esterno verso l'interno e poi rimandare dall'interno verso l'esterno. In questo modo potremmo costantemente avere un'evoluzione e credo che la parola evoluzione sia il concetto che è più simile, più collegabile alla parola felicità, capire che siamo in costante evoluzione e avere la felicità proprio di guidare in qualche modo la nostra evoluzione. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!